Amici di Consatenis, bentornati, ciao Fede. Ciao Fede, bentornato a te. Non ho capito, chi è che fa il benvenuto in casa all'alto? Dovremmo trovarci a metà strada. Io sono qua, sono io che dirigo le operazioni a livello tecnico, quindi dammi l'onore di essere il padrone di casa almeno. Ok, va bene. Come stai Fede? Hai anche la rata del mutuo? No, quello non mi permettere mai. Come stai? Bene, bene. Sono ancora stanco da ieri pomeriggio perché si immaginava una partita lunga, ma non così lunga, non finiva più. A un certo punto ho finito le scuse con i familiari che mi attendevano in certa stanza perché dalle mie parti c'è la fiera internazionale del tartufo bianco di Alba. Sì, non andate mai ad Alba in questo periodo. Andate tutto il resto dell'anno e non in questo periodo perché io sono stato lo scorso anno ed è drammatico. Comunque, parliamo di te, Fede. Allora, ovviamente parliamo, la puntata è incentrata su Yannick Sinner e su quanto fatto la scorsa settimana, culminato col titolo a Vienna, e un'altra vittoria contro Medvedev, già battuto a Pechino. Non so dove puoi partire. Allora, è una settimana, è un autunno dei record per Sinner che prima ha eguagliato il best ranking di Panatta, adesso ha eguagliato anche il numero di titoli di Panatta, è arrivato a 10. A 22 anni sostanzialmente, Fede avanza una candidatura abbastanza credibile sull'essere già il più forte italiano di sempre, ma comunque se non lo è già, e per me lo è, lo diventerà a brevissimo. Ha superato anche come vittorie Barazzutti, come vittorie nell'anno solare, vincendo appunto la 56esima con la finale di Vienna. Che dire, Fede? No, allora, secondo me non lo è, nel senso che manca il bollino della ragioneria dello Stato, nel senso che lo è nel momento in cui vince almeno un titolo slam, visto che la concorrenza ce l'ha con Panatta e Pietrangeli. Poi tra Panatta e Pietrangeli si sa che c'è questa querela, aperta sul fatto che, ogni tanto, per me è gravissimo poi sbagliare la parola in francese, molto più che in inglese, perché Pietrangeli giocava al tempo della distinzione tra direttanti e professionisti, quindi buona parte della concorrenza non l'affrontava essendo lui direttante. Comunque, no, aspettiamo con fiducia che, poi ne parliamo magari anche più tardi del discorso, il passo e il respiro di un 3 su 5 rispetto al 2 su 3. Però lasciamogli vincere e godiamoci l'attesa di un grande torneo, di uno slam. Fino a quel momento lasciamo ancora lì Panatta e Pietrangeli. Ok. Cosa gli ha sorpreso di più della vittoria di ieri? È arrivata una vittoria dopo tre ore e tre minuti, mi sembra. E volevo dirti, quando nel penultimo game Medvedev ha abbozzato una sorta di crampo, secondo me dentro si ne rideva non tanto per il suo avversario, ci mancherebbe, ma perché per una volta, in una partita importante, è l'altro che è piegato fisicamente, a differenza sua, che invece stava benissimo. Sì, proprio quello che hai detto Fede, mi ha sorpreso e sono rimasto ammirato dalla capacità di Sinner di tenere quel ritmo per quasi tutta la partita, perché comunque un calo quando ha preso il break nel secondo set c'è stato e temevo che potesse essere l'inizio di una fine, visto anche come il primo set era stato lottato e intenso. In più, io non mi sono accorto subito del gesto di Medvedev, si vede che ero distratto in quel momento, quando l'hanno fatto rivedere, mi è venuto in mente quello che era capitato con Tiafo a Vienna due anni fa. Quando Tiafo si era messo a fare il buffone, Sinner colpevolmente, ingenuamente, anche per inesperienza, era caduto nella trappola, si era fatto intortare, aveva perso la partita, e con quella la possibilità di andare a giocare per la prima volta da titolare l'ATP Finals, poi era entrato come riserva e ti ricordi quella bellissima partita persa, 7-6 al terzo contro Medvedev proprio. Per fortuna Sinner di oggi, allora, prima di tutto, ha sistemato il discorso Tiafo in settimana e secondo me ci teneva tantissimo a rimettere le cose a posto, c'era un conto aperto via Vienna. Dopodiché è stato bravo, secondo me, sempre che se ne sia accorto, ma credo di sì, a far finta di niente. È andato poi a servire per il match, ha rischiato, perché a un certo punto sulla palla break, quando ha giocato quella smorzata, a uscire dallo scambio proprio, si vede che aveva finito le opzioni o il fiato, non lo so, Medvedev è arrivato su quel dritto con la palla alta sopra la rete e vi sono detto, vabbè, ciao, contro break, ci rischiamo, invece l'ha messa a lunga e poi ha perso la partita. Però mi ha stupito molto, no, stupito no, mi ha sorpreso comunque e sono davvero ammirato, lo ripeto, dalla capacità che ha avuto di mantenere questo ritmo infernale per buona parte della partita contro un giocatore che da quel punto di vista lì ti tira scemo, ti prosciuga le energie, ti fa perdere i sentimenti, invece l'ha tenuto fino alla fine. Sì, molto importante la fiducia in questo sport, non è una banalità ricordarlo, però ecco, vedere Sinner che ieri fa cinque ace, tre dei quali nel tie break del primo set, vederlo contro Shelton, fronteggiare quattro palle break in tutta la partita e tre volte fa ace significa che è classe e significa che è in estrema fiducia. E quindi la prossima domanda che ti faccio, Fede, è questa estrema fiducia, questo turno sensazionale di Sinner, con tante vittorie, tanti record, una condizione straordinaria, tra due settimane si giocano le finals a Torino e lui sarà, credo, non ho fatto i conti, però salvo cataclismi dovrebbe essere il numero quattro, il che significa evitare Medvedev nel girone e pescare soltanto, soltanto, si fa per dire uno tra Alcarazza e Djokovic, ti chiedo, sei Sinner, giochi Parigi? Gioco Parigi, sono obbligato, a meno che io non sia infortunato, nel senso che non è che puoi scegliere. Certo, ne abbiamo parlato tante volte, è un torneo che ha una sua utilità di risulta ed è per questo che a me non ho mai attirato più di tanto, perché se sei qualificato e non sei, insomma, se sei già uno con la collezione di mille di slam e di vincere Parigi per si ti interessa fino a un certo punto, altrimenti, no, se sei giovane come Sinner è ancora all'inizio della tua collezione, allora rimane un mille, per carità di Dio. Però è ovvio che dopo un torneo del genere, adesso lui poi partirebbe a un buy al primo turno, partirebbe da mercoledì, da dopo domani, e gioca contro il vincente di Wolff-McDonald, siamo al primo turno, JJ Wolff contro McKenzie-McDonald. Però è, secondo me se ci fosse libera scelta di giocare mille, diventerebbe un 200, neanche un 200, pare diversi, sto estremizzando ovviamente. Però io credo che questa preparazione sia stata fatta a tavolino pensando per il meglio, cioè che comunque Sinner potesse essere impegnato per tutto lo swing asiatico, il ritorno in Europa, non per un giorno o due, ma possibilmente anche fino in fondo. Quindi probabilmente questo blocco di tornei era stato messo in preventivo e quello che può magari succedere è che magari di non giocare tutte le partite alla morte, questo può essere, però non giocare, direi di no, giocare si gioca comunque. Sulla partita di ieri, Fede, un attimo, volevo tornare su un discorso, perché avevamo visto l'ultima, commentato insieme l'ultima sfida contro Medvedev e ci aveva fatto molto piacere scoprire questo lato offensivo di Sinner che un po' sulla scorta di quello che facevano anche Djokovic e Alcaraz contro Medvedev si era messo a fare serve in volley in maniera costante. Ieri questo non è capitato. Cioè ieri si è proprio giocata la partita che piace a Medvedev e che solitamente vince Medvedev e invece l'ha vinta Sinner. Infatti secondo me sta godendo il doppio di Annick per questa cosa. Cioè nonostante, io non lo so perché abbia scelto di non giocare come l'altra volta, probabilmente, non lo so, ha avuto più paura della risposta dei passanti di Medvedev, non aveva le stesse sensazioni, non tutti i giorni sono uguali. Questa cosa però mi è utile per una notazione. Io lo capisco che i tifosi di Sinner siano giustamente entusiasti, affascinati dai risultati e dai progressi del loro giocatore e noi siamo contentissimi che Sinner stia ottenendo questi risultati clamorosi che davvero ci porteranno molto probabilmente in un'era che nel tennis italiano non si è mai vista. Quindi evviva e alleluia. Detto questo, non è che automaticamente Sinner sia diventato il giocatore perfetto che sa fare tutto, a cui riesce tutto. Io lo vedo in questa volontà di essere aggressivo un po' un lavoro alla Djokovic, nel passato a Leivan Landel. Cioè giocatori che sono e rimangono tennisti, che costruiscono il punto da fondo e che però a forza di tentare, di avere poi anche il coraggio di portare in partita queste varianti, riescono ad aggiungere il serve in volle a sorpresa. Perché comunque ieri per esempio ho visto un paio, uno smash e una volei, soprattutto una volei alta di dritto nel secondo set che insomma in un momento finiva fuori dal telone. Cioè non è che improvvisamente Sinner sia diventato un giocatore a tutto campo come Boris Becker, è apprezzabilissimo il fatto che stia provando a capitalizzare di più il gioco da fondo campo, però tra il Sinner visto la penultima volta contro Medvedev e quello di ieri, io credo che in assestamento Sinner sarà un giocatore che scenderà a rete meno spesso di quello che si è visto a Pechino, forse un po' più spesso di ieri perché a un certo punto l'ha proprio rinunciato, che però comunque resterà un giocatore eminentemente di rimbalzo. Senza dubbio. E' giusto che lui abbia la visione e anche la maturità per provare a fare cose nuove, ha la bisogna come hai detto te, però le caratteristiche restano quelle. E a oggi Fede da fondo non so chi è più forte. Nel mondo di Sinner. Sì, magari bisogna valutare un po' il tipo di superficie, ma indubbiamente il ritmo che ha Sinner da entrambi i lati è qualcosa di infernale. Cioè ieri mi sono svitato io la testa a seguire questa palla che andava su e giù, su e giù, su e giù, su e giù, a velocità incredibile e sbagliavano pochissimo. Hai visto quel dritto che ha tirato nel terzo game, nel terzo set, quando ha distrutto la pallina con la... Mi ha ricordato James Blake, Blake ogni tanto, aveva questi fulmini di dritto lungolinea con la palla che andava talmente rapida che in non nulla batteva contro il cartellone di fondo e rimbalzava verso il campo. Che è una cosa... Tu provaci a tirare a tutta forza un dritto, anche non importa se in campo o fuori campo, perché insomma noi siamo persone normali, e a far rimbalzare la palla su un campo centrale con gli out così ampi, contro il cartellone, e fare in modo che la palla di rimbalzo torni in campo. Sì, solitamente accade con gli smash, ecco. Senti, volevo chiederti un'ultima cosa su Sinner. La tua conoscenza di Sinner viene da lontano, non è sicuramente recente, e volevo chiederti quando hai capito che era così forte, se lo hai capito subito? No, l'ho capito subito, anche perché quando l'ho visto a Bordighera, Sartori e Piatti me l'hanno presentato, personalmente lui stava giocando in quel momento, come qualcosa che raramente si vede su un campo da tennis, per un giocatore di quell'età. A me quello che stupiva era la scioltezza del movimento. Per esempio, quando tirava il dritto, e succede ancora adesso, sembra quasi che si voglia colpire l'orecchio con la punta della racchetta, cioè riesce a essere così sciolto, tu guardi altri giocatori fortissimi. Ultimamente mi stavo rivedendo l'esibizione che tre anni fa giocavano in un hangar in Germania, Sinner e Haas, che era già ritirato ma continua a essere informissima. Haas, per esempio, un tenista formidabile con un rovescio stato sferco. Per esempio, il dritto di Haas era un colpo molto più trattenuto, ma proprio perché gli mancava qual è l'elasticità articolare e muscolare. Cioè, Sinner sembra svitarsi ogni volta che colpisce la palla, ma rimane in equilibrio, tutta l'accelerazione finisce sulla palla e quello ce l'aveva già fin da ragazzino. È proprio un dono. Sì, sì, non c'era alcun dubbio sul fatto che sarebbe diventato, ma anche qui, uscendo dall'equivoco, è ovvio che i coach sono importanti, ma quando c'è un diamante grezzo come Sinner, cioè Sinner, la prima cosa che ho scritto quando ha lasciato piatti è stato un parallelo con Becker che lasciò Gunter Bosch dopo aver vinto Wimbledon e tutti pensavano, guarda questo che cavolo fa, appena trovato il suo mentore, si perderà per strada. Becker ha avuto un annetto poi di difficoltà, ma non c'erano dubbi sul fatto che un giocatore di quel valore la strada l'avrebbe trovata. Poi ha trovato altri coach di grandissimo valore. Cioè, il lavoro che stanno facendo Bagnozzi e Kyle è ottimo, però quello su cui nessuno può discutere è il fatto che, se Sinner ha voglia di giocare a tennis, ha un talento tale per questo sport che arrivare arriva. Poi, quando arriva, come ci arriva, quanto dura, invece sono cose che dipendono ovviamente anche dalla squadra che ti porti appresso. Però era chiaro a tutti. Mi ricordo un messaggio di Thomas Fabiano che si era allenato con lui, era arrivato da poco lì a allenarsi e gli avevo chiesto che ne pensi di Sinner? E lui mi rispose fai i buchi per terra. E lui era in un periodo in cui stava giocando bene. Allora, mi dai l'assist, visto che hai parlato di coach, per affrontare l'altro macro argomento del giorno, ovviamente non potevamo non parlare, che è la separazione di Matteo Berrettini con coach Vincenzo Santopadre, che è stato peraltro ospite da noi qualche settimana fa. Sì. La separazione è arrivata con i comunicati stampa di oggi, ovvero sia il posto su Instagram, e un posto, devo dire, che a me è piaciuto molto perché sono belle parole ma che sono sicuro pensate e sentite da parte di Berrettini, non come succede spesso con gli atleti. E te l'aspettavi? Non proprio. C'è qualcuno che mi ha chiesto se proprio durante la puntata di Gonzo con Santopadre ospite avessimo avuto qualche avvisaglia. Io non ho avuto avvisaglie di una separazione imminente, ho avuto una sensazione che, ripeto anche qui, che per la prima volta da quando avevo conosciuto Vincenzo da coach di Matteo, perché al 2010, che lo era, si stesse un po' guardando intorno. Ecco, solo questo. Cioè che stesse valutando la possibilità di un suo futuro senza Berrettini. E qua mi fermo perché sarebbe troppo facile dire no, io l'avevo capito, lo sapevo. Io non lo sapevo e non lo avevo capito. Mi ero accorto del fatto che evidentemente la situazione di Berrettini, che continua a essere infortunato così spesso, e gli anni passano, e magari, io credo che si siano, allora, anzitutto, posso dire che non è stata una cosa traumatica, ma decisa da entrambe le parti. Questo lo posso dire. Qui non c'è stato un lasciatore, un lasciato. Uno che non voleva e l'altro che invece desiderava continuare. E' stata una decisione di comune accordo. Credo che inevitabilmente la situazione attuale di Berrettini, atleta, abbia portato a prendere questo tipo di strada. Le cose, a un certo punto, sono anche difficili da rinfocolare, i rapporti di lungo corso si esauriscono, e anche qui, banalità, ma è vero, cambiare sfondo a volte serve. Cioè, non necessariamente Berrettini, visto che di lui parliamo, ha bisogno di qualcuno che gli dica cose diverse. Che ne so, gioca rovescia una mano, diventa pallettaro, servi più piano, cioè, non è quello che è il discorso. Le stesse cose dette da qualcun altro con cui magari hai meno confidenza. ormai sono padre e figlio Matteo e Vincenzo e forse prendersi invece in casa un maestro nuovo di quelli che ti fanno fare lezioni e cui tu sei magari anche un po' in soggezione a chiedere, magari ti può dare uno stimolo differente. Per contro, non per contro. in aggiunta a questo, Fede, secondo me, con l'esperienza che si è fatta con Matteo, per il tipo di persona che è davvero rara in un mondo concorrenziale, spietato, di squali come quello del tennis professionistico, io immagino che ci sia la coda già di giocatori vecchi, giovani, medi, che vogliono farsi allenare da Vincenzo Santofale. Io gli ho scritto, guarda, se fossi forte, fossi giovane, te lo chiederei pure io. Sono molto d'accordo su quello che hai detto, colgo l'assist di prima quando parlavi dei coach di Sinner del suo cambiamento per sottolineare che secondo me qua invece ha avuto un ruolo più che cruciale Santo Padre nell'evoluzione di Berrettini e soprattutto in quello che è arrivato a vincere, dove è arrivato in classifica, quello che è arrivato a giocare. Tu prima dicevi giustamente che, banalizzo un po' il tuo discorso, se uno è fortissimo, fortissimissimissimo come Sinner non è che non importa l'allenatore ma comunque in un modo o nell'altro arriva. Quando uno lo è meno come Berrettini a mio modo di vedere è molto importante la figura che ha vicino e in questo Santo Padre ha avuto un ruolo essenziale. Lui stesso nel post Berrettini ha sottolineato senza di te sarei stato comunque Matteo Berrettini ma non sarei stato The Hammer. Bravo, è esattamente centrato il punto. Sinner è un giocatore che già per sue caratteristiche e per sua mentalità era votato al tennis al 100% con quel tipo di gioco che poi quando Piatti lo ha preso era ancora nell'età in cui potevi intervenire tecnicamente per instradarlo in un certo modo. Berrettini più o meno uguale perché aveva 13-14 anni quando ha cominciato a lavorare con Santo Padre e lì cosa è successo che a differenza dell'impostazione classica del tennista di quel italiano di quel periodo quindi fisico lotta stop spin servizio kick ti sposti sul dritto comandi lo scambio Santo Padre ha avuto il coraggio e la longimiranza di dirgli no tu per come sei fatto fisicamente per il tipo di tennis che hai non puoi fare quella roba lì perché diventi un giocatore più debole rispetto al tuo potenziale tu devi fare anzitutto ruotare il tuo tennis intorno al servizio ed è questo il motivo per cui Vincenzo giustamente non faceva provare i servizi al cesto a fine ora a Matteo ma era il primo esercizio dell'inizio dell'allenamento quando si è ancora fresi concentrati e si ha voglia di spaccare la palla perché il servizio era il colpo su cui Berrettini doveva costruire il suo tennis insieme al dritto e così è stato quindi anche lì non voglio essere frainteso è chiaro che soprattutto nell'età in cui la pasta non si è ancora induita il coach la può plasmare ma ci sono dei giocatori che hanno delle tali caratteristiche di eccellenza per cui appunto non è in discussione il valore è in discussione il cammino perché poi quello dipende da tantissime altre cose un giocatore si può stufare può circondarsi della gente sbagliata che ti fa passare la voglia di giocare ti tira a fare la bella vita a impigrirti ad accontentarti a fare scelte di programmazione non corrette quindi magari puoi anche perdere del tempo col senno di poi tanti giocatori parlano di aver fatto scelte sbagliate nel passato poi c'è chi è fortunato e che trova il suo o i pochi suoi e se li porta avanti per tutta la carriera d'accordo senti Fede chiudiamo parlando un po' di ciò che rimane della corsa alle finals sembra abbastanza delineato in settimane sono giocati i tornei di Vienna e Basilea quindi 2.500 parecchi punti a disposizione diciamo che i nostri contendenti non sono andati in modo eccelso però a Basilea visto che non ne abbiamo parlato è avvenuta una risurrezione è risorto Oje Aliasim che non vinceva una partita da tempo in memore e non ci posso e ha vinto il torneo battendo peraltro in finale Urkac uno che le finali non è particolarmente avvezzo a perderle e ha battuto in semifinale Rune un altro risorto che è tornato a vincere una partita allora il torneo sembrava nuovamente maledetto perché non so se hai visto è iniziato con il torneo di Rune contro Kekmanovic perdendo 6-1 il primo set e quindi dico vabbè perde anche questa invece no dopo ha vinto quella partita ha vinto altre due e ha perso il semifinale con Oje che alla fine ha vinto il torneo adesso c'è Boris Becker che lo guida quindi sì e si gioca a Bercy dove Rune difende il titolo sì peraltro soltanto due giocatori nell'Europa hanno vinto questo torneo da under 20 uno è Rune e l'altro è Boris Becker ok grazie per l'aiuto comunque la corsa al momento dice che Rubioff è qualificato ovviamente che al sesto posto Zizi Pass è prossimo alla qualificazione e sostanzialmente Zverev pure è messo abbastanza bene sostanzialmente Fede si giocano un posto Rune e Urkac con Rune che ha 200 punti di vantaggio sì non ha visto il tabellone di Bercy quindi non so dirti io guarda comunque spero che ci arrivi Rubioff perché comunque per quanto ci stia poco simpatico è un personaggio che smuove un po' le acque ti ricordi anche l'anno scorso a Bercy al primo turno con Wawrinka salva i match point e con Wawrinka che gli dà la mano e gli dice ragazzino vedi di comportarti da adulto e non da bambino che torneo che ha fatto lo scorzano Bercy e poi ha giocato una finale strepit ma che finale ha giocato l'anno scorso con Djokovic tutto il torneo forse 4 d'up 10 una roba incredibile sembrava Nalbandia nel 2007 quando l'infilata Madrid Bercy in cui era ingiocabile per chiunque ha preso per il sedere tutti quanti Djokovic Federer Rafa chi non ci sarà invece salvo miracoli è Rude che peraltro difende per la tua disperazione avrebbe dovuto difendere la finale dello scorso anno alle finals va bene diciamo che quello che ci interessa per nostra fortuna è la lotta là in cima i primi 4 pensa come c'è cambiato lo sfondo nel giro di pochi anni no perché comunque ragionando ieri allora Djokovic devi metterlo avanti d'ufficio no quando stili la lista dei favoriti ti devi comunque metterlo davanti per esperienza per forza ovviamente Alcaraz non lo so al momento se lo metto avanti perché ha giocato in Asia non benissimo anzi non ha giocato questa settimana torna adesso a Parigi Bersì ho detto che sta meglio eh sì però ecco non so se io indoor ancora lo metto davanti a questo sinner e Medvedev che io teoricamente lo metterei davanti a Sinner però ha perso le ultime due per quanto due partite molto tirate però hanno un significato un peso adesso adesso direi che sostanzialmente alla Pari anche qui lo abbattuto le ultime due volte non vuol dire che gli è passato avanti aspettiamo un attimo anche perché sono state due partite ieri alcune cose se fossero due o tre punti girati diversamente nel primo set per esempio avesse perso il primo set non lo so come sarebbe andato la partita cioè non è che se l'è lasciato alle spalle lo ha raggiunto ed è una cosa straordinaria visto come erano andate le prime sfide su Alcarazza hai ragione oltretutto Sinner se c'è proprio viva Dio un tennista che sembra non soffrire particolarmente proprio Alcarazza che fa paura a tutti quanti gli altri quindi quindi davvero al momento rimane Djokovic che ha quel vantaggio come dici tu non solo di match finti contro Sinner ma anche di fame di esperienza di voglia di continuare ad arraffare titoli come è fatto l'anno scorso proprio a Torino facciamo un giochino Fede puoi sceglierti i compagni di girone di Sinner io te li leggo a seconda della classifica del momento Djokovic o Alcarazza prendi Alcarazza a questo punto anche perché se ti prendi Djokovic cioè non è che poi anche se lo batti nel girone non è che l'hai fatto fuori per la formula del master quindi magari te lo ritrovi più avanti ok quindi prendi Alcarazza poi Rubio Zizipass per l'ultimo Zizipass potrei dirti Zizipass però al coperto ma prendiamo Rubio dai concordo Zverev Rune Rune perché Zverev se sta bene due su tre al coperto scansati sì 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 questo potrebbe essere un un girone perfetto per Ziner secondo me sì e comunque siamo nelle condizioni cioè ecco in questo momento ma lui lo sa benissimo l'ho anche detto ieri questa distanza e il tennis al coperto sul duro comunque cemento o sintetico che sia ecco è il palcoscenico ideale per la forza di Sinner la sua scommessa del prossimo anno ed è quella in cui tutti abbiamo molta fiducia è quella degli slam che secondo lui giustamente passa per un ulteriore salto di qualità nella condizione atletica perché l'anno scorso se ti ricordi non se ti ricordi te lo ricordi ma lo ricordo a me stesso in tre dei quattro slam è finita male al quinto cioè con Sissi Pass ha perso al quinto l'aveva raggiunto poi si è un po' sgonfiato a Parigi con Altmaier aveva la lingua per terra al quinto set con Sverev agli US Open il più stanco dei due al quinto era lui e è questo ciò su cui lui sta lavorando perché sa che per quanto una partita come quella di ieri sia in un certo senso anche se vogliamo paragonabile a un match 3 su 5 in realtà non lo è perché 3 su 5 tu puoi anche vincere meno di 3 ore una partita 3 su 5 ma è proprio un altro tipo di passo perché ci sono margini molto più ampi devi saper gestire le energie e devi averne più di quelle che lui ha avuto quest'anno quindi nel goderci i successi di Sinner che insomma sta apparecchiando tutto per un finale di stagione super per un 2024 super entusiasmante c'è effettivamente questo aspetto su cui lui sa di dover ancora fare dei passi avanti sì d'accordo in toto e secondo me negli slam c'è anche una componente di stanchezza mentale cioè secondo me ovviamente non li ho mai giocati quindi non lo so però il pensiero di di dover dire perdo il primo set cazzo adesso devo vincerne tre perché tante volte davvero come detto giustamente te una partita si risolve in meno di tre ore che è la tempistica con cui ieri Sinner ha vinto contro Medvedev però il 2 su 3 è una cosa più leggera ecco invece il 3 su 5 no che è l'esatto motivo per cui Djokovic è quasi imbattibile sul 3 su 5 proprio per questo perché invece per lui è un vantaggio e Nadal perché ricordiamoci sempre che se se tutto va come deve andare non si è capito in Australia sembrava più un aspettiamo che un sì quello risposto da Rafa Nadal al direttore del torneo Craig Tiley Rafa ti aspettiamo e lui giustamente ha detto ma al momento mi sto ancora preparando vediamo però io credo che che non dobbiamo considerare ancora fuori dai giochi soprattutto per la stagione sulla terra Rafa al prossimo anno sarebbe bello avere un ultimo waltzer magari con Rafa dentro dai che ci divertiamo l'anno prossimo allora voi ricordatevi di seguirci se non lo se non lo iscrivendovi al canale iscrivendovi al canale che è gratis e e noi ci sentiremo presto intensificheremo le puntate vediamo cos'altro durante le finals sicuramente ci risentiremo per Parigi Bersì e per adesso ti ringrazio Fede grazie a te ciao ragazzi ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti